Solida presenta la protezione per te e di tuoi cari in caso di imprevisti, anche gravi. La salute è il bene più prezioso che possediamo. L'unico che, se manca, affligge tantissimi ambiti nella nostra vita e di chi ci circonda. Se oggi il destino dovesse giocarci un brutto tiro mancino, una caduta, un incidente o ancor peggio, cosa accadrebbe alla nostra famiglia? Si stima che solo il 20% delle famiglie italiane sia protetta dai possibili danni economici causati da infortuni, invalidità e premorienza. Ogni nucleo familiare, comunque sia composto, con uno o più familiari a carico, ha progetti e sogni che si fondano sulla capacità dei componenti della famiglia di produrre il reddito necessario alla loro realizzazione. Quanto costa al tuo budget familiare rimanere vittima di un infortunio o grave malattia? Liste di attesa lunghissime per visite con il Servizio Sanitario Nazionale oppure ingenti spese mediche per potersi rivolgere ad una struttura privata. Mancato reddito da lavoro. E se fosse molto grave, quanto potrebbe costare un'invalidità permanente? Mancati guadagni per tutta la vita. Il divario tra assegno di invalidità e reddito necessario per il mantenimento della propria famiglia. E se fosse così grave da portare a prematura scomparsa? Nessuna cifra potrà mai sostituire un caro scomparso prematuramente. Ma può di certo aiutare chi dipende dal mancato reddito a non pensare alle difficili circostanze che si vengono a creare. Mantenimento casa. Studio dei figli. Sostentamento di un anziano. La vita di ogni giorno ci potrebbe riservare brutte sorprese. Parlando solo di incidenti stradali, ogni anno se ne registrano quasi 200 al giorno. I tempi di attesa per una visita sono aumentati fino a 27 giorni e curarsi usufruendo del Servizio Sanitario Nazionale a tempi più lunghi, con un'attesa media di 65 giorni a fronte di un'offerta privata di circa 7 giorni. Proteggersi da questi sfortunati eventi è molto più accessibile di quanto pensi. Come funziona? Con una piccola spesa, addirittura inferiore ad un caffè al giorno, potrai Accedere a cure mediche presso istituti privati o pubblici convenzionati Avere rimborso delle spese mediche sostenute Ricevere un rimborso giornaliero per ogni giorno di ricovero in ospedale Ricevere una diaria da convalescenza per sopperire ai mancati guadagni del lavoro autonomo In caso di invalidità, avere a disposizione un sostegno economico aggiuntivo In caso di prematura scomparsa, proteggere la tua famiglia garantendo un capitale Solida, oltre a farti conoscere perfettamente i capitali di tutela necessaria, può consigliarti diverse soluzioni modulabili secondo differenti esigenze Contatta uno dei nostri family office per avere maggiori informazioni Solida. Your Financial Energy